ok questa è una bella scoperta che ha un bello bello ragazzi abbiamo un rettile porca puttana porca puttana portacci tua sono stato attaccato da un puma ragazzi da un puma io credo fosse un serpente invece ho visto che si è avvicinato bene abbiamo un'altra posizione per un puma bene vediamo ci voleva fregare ma che è successo qui ci voleva fregare eh ah proprio con grazia addirittura la cazzina va bene vabbè pelle marridotta carni silveggini grossataglia zanna di puma mappa è sempre qui vicino al cadavere perfetto ragazzi quindi sicuramente se state ispezionando come ho fatto io comparirà spawner all'improvviso sicuramente un bel puma ragazzi così dal nulla grazie 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 grazie